Nei primi anni di frequenza libera alla linguistica, tra il 14 e il 17, ancora nel 22, Guarello frequenterà la scuola di nudo dell'Accademia. L'artista porta a compimento la quantità di grandi disegni in cui, scusate il nudo, è trattato con estrema inventiva, immerso in luce ambiente o in spazi aperti. La vibrazione luminosa è una chiarità mattinale, che preluda l'ambientazione delle figure degli anni 21-26. E' ottenuta mediante stilismo inconsueto, un tocchettio che arroscura le teme, che amarezza in mezzi toni, riscioglie l'impianto plastico potente in una liquidità dilagante di luce. Questi disegni sono ben più che studi, non sorprendono e creano gli stessi anni. Guarello firme alcune delle sue opere più importanti, e ritratti qui la tecnica divisionistica, usata con un tratto falcato che crea come un'alona luminosa intorno alle teste. Conferisce un'allucinata penetrazione psicologica. E' del 1916 l'annunciazione, prebiattesca, figura d'usta come uno stelo sul quale si inclina la testa, scusate. Di finissima stilizzazione, figura liberty se si vuole, ma esercizio di concentrazione mentale sull'immagine. Nella riduzione ai termini semplici e rigorosi, nella pittura di bianchi e azzurri, pochi intensi, tra l'altro di più acceso colore. E' un disegno severo, che riporta la figura dell'assenza plastica della sua costruzione. Non stupisce tale risultato di nobile stilismo, se si considera la qualità raggiunta nei disegni. La capacità che l'artista dimostra di definire in questo tempo alla particolare poetica dallo spazio a luce di cui viva la sua pittura. Negli anni tra il 16 e il 20, guerra la metafuoco alla propria dinamica del colore e a tecnica divisionnistica. A tecnica divisionnista, scusate. Riportando gradualmente alla configurazione della spazio del quadro, dall'impianto prospettico a una spazialità di superficie, affidata alla mobilità delle zone cromatiche e dà la vibrazione del tratto internamente alle zone stesse. Il suo divisionismo è finissimo. Mostra accensioni solari come un'interpretazione in chiave musicale del cromatismo materico di Rubaldo Marello nei paesaggi del ponte di Portofino, del monte scusate di Portofino, dove l'artista affronta con una tabollazza che accoglie l'ampienza coloristica del prisma meridiano l'incandescenza meridiana del paesaggio. Si compie intanto un processo di rarefazione della materia cromatica. Nella testa, la luce irradia dall'interno della rosa trattenuta del viso, il mistero di una spiritualità intensa. E nel dipinto, a legge segreto di una psicologia appuntata nel sottile disegno del profilo, sulla trasparenza del fondo tessuto in piccoli tratti del giardino climatiano. Tra il 1920 e il 21, Guarello dipinge le sue rapere più intense.